Cari figli, invito ed accolgo voi tutti come miei figli. Prego che voi mi accogliate ed amiate come madre. Ho unito tutti voi nel mio cuore. Sono scesa in mezzo a voi e vi benedico. So che voi volete da me consolazione e speranza. Perché vi amo e intercedo per voi. Io vi chiedo di unirvi con me in mio figlio e di essere miei apostoli. Perché possiate farlo. Vi invito di nuovo ad amare. Non c'è amore senza preghiera. Non c'è preghiera senza perdono. Perché l'amore è preghiera. Il perdono è amore. Figli miei, Dio vi ha creati per amare. Amate per poter perdonare. Ogni preghiera che proviene dall'amore vi unisce a mio figlio e dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi illumina e vi rende miei apostoli. Apostoli che. Tutto ciò che faranno. Lo faranno nel nome del Signore. Essi pregheranno con le opere e non soltanto con le parole. Pi chiamano mio figlio e comprendono la via della verità che conduce alla vita eterna. Pregate per i vostri pastori. Perché possano sempre guidarvi con cuore puro sulla via della verità e dell'amore. La via di mio figlio. Vi ringrazio. Pregate per i vostri pastori.